con il bacino, sali con la gamba sinistra e inspiri e fuori, passo avanti, inspiri, cerchi con il braccio sinistro, fuori mentre scendi, inspiri mentre sali e fuori, crea la torsione, braccio sinistro indietro, inspiri, cambia le braccia, vieni con il braccio sinistro oltre la testa e fuori l'aria, palmo destro forte a terra, inspiri mentre sollevi il ginocchio sinistro, braccio sinistro verso l'alto e fuori, piede sinistro dietro la gamba destra, inspiri e spandi e fuori piegamento, inspiri srotoli, apri e fuori, siedi sui taloni, inspiri, sollevi il busto, apri il petto fuori l'aria piegamento, inspiri una per una le vertebre salgono e fuori su con il bacino, inspiri sulle punte dei piedi e fuori l'aria, ginocchio a terra e ti siedi sui taloni, da capo fluido, inspiri braccio destro, fuori sposti in alto, inspiri su con la gamba destra e fuori, piede fra le mani, inspiri cerchio con il braccio destro e fuori mentre scendi, inspiri srotoli e sali e fuori torsione con il busto, alterna le braccia, inspiri, 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 braccio destro oltre la testa e fuori l'aria palmo sinistro a terra, inspiri, stabilizza e sollevi, braccio destro, ginocchio destro, porti il piede destro dietro la gamba sinistra a terra, inspiri, sollevi di nuovo e apri tutto e fuori, palmi a terra, piegamento, inspiri, apri il petto e fuori ti siedi sui taloni, inspiri, sollevi il busto e fuori piegamento, inspiri, senti la mobilità della colonna che è cambiata e fuori su con il bacino, inspiri sulle punte dei piedi e fuori, ritorni a sederti, inspiri, cerchi con il braccio sinistro e fuori, rendi tutto ampio, grande e profondo, sali con la gamba sinistra inspiri e fuori, passo avanti, cerchi con il braccio sinistro, inspiri e fuori grazie 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 a tutti.